Oggi vorrei parlarvi di energia fotovoltaica e di un progetto di economia sociale Ognuno di noi si chiede cosa è il fotovoltaico? Semplice, è energia pulita e gratuita Come? Grazie ai raggi del sole e ad appositi pannelli che lo trasformano in energia Sono molte le domande che ci poniamo per capire come dotarci di un sistema di pannelli solari Il Consorzio ABN, ideando il progetto Mille Tetti Solari, risolve ogni dubbio al cittadino Il progetto Mille Tetti Solari è un modo nuovo di produrre energia pulita È un progetto di economia sociale e di aiuto reciproco tra il cittadino e il Consorzio ABN Quali sono i principali motivi per cui un cittadino non installa un impianto sulla propria casa? Senza dubbio il fatto che trova difficoltà ad avere prestiti o incentivi dalla propria banca Piuttosto che le lunghe ed interminabili pratiche burocratiche per ottenere permessi ed eroghe E senza dubbio la difficoltà di scegliere l'esperto giusto che gli garantisca efficienza, trasparenza e qualità Il Consorzio ABN, realizzando il progetto Mille Tetti Solari, si fa carico di tutto questo E risolve al cittadino ogni problema coinvolgendolo in prima persona Ecco come il progetto Mille Tetti chiede al cittadino di mettere a disposizione il proprio tetto In cambio realizza a costo zero l'impianto solare e lo garantisce per 20 anni Dando vita ad un rapporto reciproco di scambio Risultato? Nessun investimento economico per il cittadino Energia pulita è gratuita per 20 anni Costruiamo insieme il tuo impianto solare eliminando ogni dubbio e impedimento burocratico Produciamo insieme energia pulita Diventa anche tu un cittadino Mille Tetti Musica Musica